Siamo giunti a termine della nostra edificazione, lasciando spazio ai nostri amici. Amico Jerry, voglio salutare e ringraziare Cristiano Ferris, il nostro fonico, il nostro fonico, il barbacenico, qui con le nostre assistente, tutti gli amici che sono lì alle luci, gli amici sotto il gazzetto, appussate i nostri dischi, oh, vicino a Calma e ne arranciamo. Questo primo pezzo lo vorrei dedicare alla mia amica Rosetta, proprio perché si trova bene in salute. Siamo giunti a termine della mia amica Rosetta, proprio perché si trova bene. Siamo giunti a termine della mia amica Rosetta, proprio perché si trova bene. Siamo giunti a termine della mia amica Rosetta, proprio perché si trova bene. Siamo giunti a termine della mia amica Rosetta, proprio perché si trova bene. Siamo giunti a termine della mia amica Rosetta, proprio perché si trova bene. Siamo giunti a termine della mia amica Rosetta, proprio perché si trova bene, come bene, Cameron, anche la mia amica Rosetta, proprio perché si trova bene. E' sempre di presentare questi ragazzi, facciamo dalla mia sinistra, alla lira che l'ho presa, alla chitarra battuta, alla chitarra classica, alla bambina che vanno a usare questi lotti in ligno, alla voce da Porto Salvo di Valencia, Alessandro Triconi! Alla chitarra acustica, alla chitarra classica, alla godis corne, da Vivo Valencia, Nicola Camillo! Al basso elettrico! Direttamente da New States, da Briatico, Cosimo Ballone! Il Triconi, alla batteria, al tamborello a cornice, con le battente del gruppo! All'organetto, al bando neon, strumento titolo tradizionale dell'Argentina, nato in Germania, ma tradizionale argentino! Alla fisarmonica, la sua amante, il vero Giuseppe? Prima l'amante, dopo la moglie, giusto? Da Scicoli di Briatico, il maestro Giuseppe Casuscelli! San Fluff, la regia, a testa d'amore! Ho visto il Vivo! San Fluff, la regia, a testa d'amore! Ar Principiamo! Bronio Gompano! quelle due non c'è nessuno sul palco ah non c'erano le ragazze scusatemi mi sono confuso mi ero dimenticato di loro alla loro bellezza alla loro simpatia alla loro dolcezza quando non cacciano l'occhi eh al ballo ai cori, alle voci da Porto Salvo sempre Ivo Valencia Ilenia Currado e Maria Carmela Tripodi e a un timore di questa barca il nostro cantante nonché manager e presidente del gruppo da Ranciamo Felice e Gabriele voglio ritraserlo a mente tutti coloro si sono impegnati per la realizzazione di questa magnifica serata un applauso un applauso un applauso un applauso ma noi al pubblico della terra anto famuo di questa barca fare i conoscopi di questa barca che è di questa barca che è di questa barca che è di questa barca Grazie a tutti.